Sono numeri molto alti mai registrati in questi due anni di pandemia nella città di Agropoli, quelli che stiamo vedendo negli ultimi giorni. L'Asla Salerno, Dipartimento di Prevenzione, ha comunicato nella serata di ieri di aver riscontrato nelle scorse 24 ore 26 nuovi casi di positività al Covid-19. Al contempo però si segnalano anche tre guarigioni. Il totale dei positivi attuali nella città di Agropoli sale dunque a 246 cittadini, di questi non sono residenti. Non si segnalano però casi gravi, soltanto due pazienti ricoverati. Gran parte dei nuovi positivi appartengono allo stesso nucleo familiare, fanno sapere da Palazzo di Città. Numeri importanti si segnalano anche nel comune di Castellabate, con 98 positivi. Nella città di Capaccio Pestum invece ieri 22 nuovi contagi per un totale di 159 cittadini contagiati e 237 persone in quarantena. 65 positivi in totale registrati nel comune di Ballo della Lucania, contagi che purtroppo sono destinati ad aumentare anche in vista dell'esito di numerosi tamponi di cui si attende l'ufficializzazione da parte dell'Asla. Contagi anche nei comuni costieri più a sud della provincia di Salerno. Nel comune di Camerota si contano 27 positivi, 15 gli attuali cittadini contagiati nel comune di Pollica, mentre a Centola il report comunale è di 50 casi. A Sapri, nella sola giornata di ieri, 12 nuovi contagiati per un totale di 24 cittadini. Insomma, una situazione destinata a peggiorare anche in vista delle poche restrizioni previste dal governo, dalle regioni e dai comuni per questo ultimo fine settimana di festività.